Chi era davvero Maria? Perché fu lei la prescelta? Perché non esiste traccia della sua morte nelle scritture? Nella prima grande produzione originale di Focus, le risposte ad uno dei più affascinanti enigmi religiosi di tutti i tempi. Un personaggio che credevamo di conoscere rivela tutti i suoi misteri. Il Vangelo secondo Maria. Domenica 27 marzo alle 21.15 su Focus, canale 56. Grazie a tutti.